E la partita si conclude qui sul 6-8-5-9 la Spezia. E' finalmente arrivata la prima vittoria per la Carispezia Basket che ieri ha espugnato Bruni 68-59 ottenendo i primi due punti in classifica. Una gara che ha visto le spezzine sempre davanti al termine di ogni quarto, ma il risultato è rimasto indeciso fino all'ultimo con le ragazze di coach Corsolini che non riuscivano a trovare l'allungo decisivo. Primo quarto combattuto colpo su colpo con le bianconere che chiudono avanti 21-14 anche grazie all'aiuto della nuova arrivata a McInter che realizza 8 punti. La seconda frazione parte con la risposta di Bruni che segna da sotto con Bratka, ma le spezzine ribattono ancora con Depretto e la gara si mantiene combattuta. Si va alla pausa lunga sul più 6 per le spezzine 36-30. Nella ripresa Carispezia si porta sul più 10, ma due brutti errori difensivi fanno accorciare Bruni a sole 5 lunghezze, costringendo coach Corsolini al time-out. Carispezia ne esce alla grande, due triple di Depretto e Bocchetti più un appoggio della giocatrice croatta riportano le bianconere al vantaggio in doppia cifra. Il quarto si conclude sul 45-56 per la cestistica. Nell'ultima parte di gara Bruni parte forte, poi inizia una serie di botte e risposta tra le due squadre fino alla fine. Il risultato sorride a Carispezia che vince il 68-59 e ottiene due punti contro una diretta avversaria per la salvezza. E' anche sfortunata Bruni perché c'era stata una buona deviazione ieri.